e carissimi amici, carissime amiche, benvenuti ancora sul canale continuiamo il nostro ragionamento sul caso di Pierina Paganelli la svolta c'è stata, come vi ho preannunciato nel video precedente e ora, per carità, gli avvisi di garanzia si chiamano così proprio perché servono a dare garanzia magari per questi esami irripetibili sul DNA per carità, quindi non è che significa, voglio dire, qualcosa di importante però è anche vero che dopo tanto tempo il PM Pace, tutta la procura di Rimini si è dimostrata molto cauta prima di emettere un avviso di garanzia perché è ovvio che lo si emette con l'imputazione di omicidio quindi non è che si sta scherzando e poi, se si va avanti, deve essere tale da sorreggere un'accusa poi davanti al GIP e poi davanti a una costa di assise quindi, attenzione, per arrivare a questo vuol dire che sono stati raccolti, secondo la procura degli elementi tali da far supporre alla procura una sua colpevolezza e una sua colpevolezza proprio riguardo all'omicidio di Pierina Paganelli e quindi la sua volta c'è stata proprio ieri ieri nel primo pomeriggio quando sono stati convocati lui e la moglie la moglie, diciamo, è stata convocata come persona informata sui fatti però la sua posizione, ora che ce l'ha vista di garanzia a Luisa da Silvia con l'imputazione di omicidio si fa molto delicata perché? non perché lei, sicuramente metterei la mano sul fuoco lei non sapeva della relazione quindi figuratevi se poteva mai, voglio dire, partecipare attivamente a qualcosa su questo non credo però dal primo momento c'è stato il fatto che il suo alibi che ha dato, cioè l'alibi che lei ha fornita a Luisa non ha mai convinto allora a seguito di questa iscrizione nel registro degli indagati certamente che adesso gli inquirenti le hanno fatto notare che la sua posizione potrebbe aggravarsi e avere anche lei un avviso di garanzia per favoreggiamento perché è ovvio che se si sospetta si fa la posizione di garanzia a Luisa significa che si ritiene che Luisa quella sera sia sceso giù al garage con un cortello, con i guanti e abbia fatto quel massacro ed allora, dato che l'unico alibi di Luisa è proprio Valeria allora delle due l'una anche perché l'alibi che Valeria fornisce a Luisa se lo voglio ricordare è un alibi ballerino che all'inizio, proprio all'inizio nasce molto generico cioè dice noi stavamo vedendo sul divano un film che non si ricordavano assolutamente poi dice alle 9.55 mi sono, che stavo un po' dormendo così sul divano mi sono alzato e me ne sono andato a letto ecco senza dare particolari quando poi sono uscite fuori i minuti il fatto delle 22.14 come l'orario del delitto eccetera allora Valeria ha aggiustato un po' il tiro dicendo sì, mi sono alzato a quell'ora però poi sono andato in bagno poi dopo sono andato a letto però c'era il gatto ho giocato col gatto si sono fatte più o meno le 22.10 22.15 quindi comunque la camera da letto è a pochi metri dal divano io l'avrei sentito scendere se fosse sceso non è Batman che in due minuti scende e sale e io non me ne accorgo sono deduzioni ah e poi c'è di più ci sono delle sue affermazioni equivoche come quelle quando dice la giornalista io gli ho chiesto se in relazione a quelle immagini delle telecamere io gli ho chiesto se lui avesse buttato la se fosse andato a buttare la spazzatura e mi ha detto di no ecco, già questo è un grave danno perché perché se tu dici io gli ho chiesto significa che non avevi la contrezza e il controllo dei suoi movimenti per dire poi altre espressioni come io sono sicuro che lui non può aver fatto questo sono sicuro perché lui ama molto gli anziani sono sicuro qua sono sicuro là non può essere io non riuscirei a dormire con un assassino vicino sono delle congetture quindi a questo punto ecco che gli inquirenti probabilmente l'hanno chiamato sia per questo e sia diciamo per verificare anche tutto questo questo chiacchiericcio sul 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 giallo del del sacco il giallo del sacco bianco un gioco di parole il sacco bianco vi ricordate perché negli ultimi tempi è emersa all'improvviso questa polemica sul sacco bianco con indumenti anche sporchi di sangue di Lewis che Valeria dice l'ha presa l'ha preso di soppiatto Manuela e se l'ha portata a casa Manuela dice no me l'ha dato lei poi io sono tornato ho portato la felpa e i pantaloni di mia figlia a Lewis Valeria dice tutta altra cosa una sola macchina due macchine proprio dichiarazione opposta questo perché è uscito fuori perché secondo me qualcosa c'era nell'aria per cui Valeria cominciava a sostenere che ci fosse un progetto da parte credo si riferisse senz'altro a Manuela un progetto che di incastrare di incastrare Lewis e quindi questo fatto del sacco con i panni insanguinati insomma poteva essere questo elemento ora se è vero ha un senso se non è vero non ha un senso ma a cosa potevano servire in teoria l'idea va alla alla casa di Pierina all'appartamento di Pierina perché l'appartamento di Pierina è ancora sotto sequestro allora dato che lo è stato dal primo momento io ho sempre sostenuto che sono state trovate forse delle macchie di sangue di DNA qualcosa che adesso possono essere comparate con l'unico indagato attuale perché sono state raccolte degli elementi può darsi pure che si pensi che l'assassino abbia usato l'appartamento evidentemente con le chiavi che però fornite da Manuela quindi vi vi rende l'idea questa che questo avviso di garanzia credo non sia l'unico almeno in proseguo perché non è ragionevolmente pensabile che il Luis da Silvia in maniera tutta autonoma ed estemporanea andasse giù ad uccidere Pierina Paganelli anche perché lui non sapeva esattamente quando tornava altrimenti se se dobbiamo pensare che lui stava giù ad aspettare mezz'ora un quarto d'ora che più o meno per sapere quando lei veniva allora dobbiamo pensare che Valeria era pienamente sua complice ecco quindi poi ci sono tanti altri elementi che vanno a far dubitare fortemente di Luis quel dato sulle coltellate che parla di coltellate date tutte da una certa direzione che presuppone una persona alta più di un metro ottanta come Luis quelle immagini delle due telecamere che fanno vedere un'ombra che esce e un'ombra che entra e sembra nonostante la poca luce che si tratta di una persona di colore e in quel condominio l'unica persona di colore è Luis poi ci sono alcune testimonianze di condomini che hanno visto Luis quel pomeriggio con il pomeriggio quindi prima del delitto che camminava speditamente dopo l'incidente mentre poi in favore di telecamere insomma non camminava bene e ha sempre dichiarato che lui stava sul divano perché aveva il ginocchio dolente vi ricordo quel ginocchio che fece anche vedere in favore di telecamere che benché ben dato però per quello che si è visto non era affatto gonfio ad esempio per cui ci sono anche a questo punto anche dei dubbi sulla bontà sulla veridicità piena di 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 questo di questo incidente perché questo incidente è che lui va a tamponare una macchina e poi va a terra allora ho pensato pure che se andiamo avanti su questa ipotesi possa essere qualcosa che poi andando in ospedale mi fa male qua mi fa male là poteva essere quasi un alibi diciamo che nel momento in cui ci sono tanti certificati medici ti mandano pure a casa dice che ti fa male i ginocchi eccetera eccetera allora si dice lui non solo ha l'alibi della moglie però è anche come dire è anche impossibilità da diambulare cosa che abbiamo visto che non è vero quindi certamente ci saranno gli sviluppi perché lui sapete era l'amante di Emanuela quindi non credo abbia potuto agire così c'è stato qualcosa di organizzato ricordiamo le parole di Loris che dice giustizia divina è stata fatta e dice anche quella famosa frase qualcuno fa giustizia con lei per lei e lei nemmeno lo sa forse riferendosi a Emanuela ma comunque questa organizzazione ci deve essere in qualche modo non posso mai credere che l'avviso di garanzia possa sostenere già possa sostenere insomma il fatto che così in maniera estemporanea ed autonoma il Lewis possa fare questo da solo da solo in maniera autonoma questo non 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 credo proprio però può essere una tattica questa perché certamente adesso ci sarà un effetto domino e Lewis se avesse qualcosa da dire credo lo dirà anche per alleggerire la sua posizione sicuramente quindi i momenti ci stanno tutto c'è un movente passionale c'è un movente economico non sono mai stati chiariti quei 2000 euro ad esempio tante cose non si sanno però c'è un movente passionale un movente economico un movente anche religioso quindi può darsi che se fosse confermata questa idea e Lewis abbia partecipato attivamente a questa cosa così per fare giustizia a modo suo per cercare di risolvere una problematica a Manuela e indirettamente anche a lui non lo so ma certamente se fosse come volta anche Manuela e allora sarebbe come volta anche Loris perché Manuela e Loris stavano insieme in maniera anomala quella sede perché era una sede particolare in cui non sarebbero dovuti stati insieme e sappiamo il legame simbiotico che c'è fra Lewis e la sorella per cui se effettivamente è successo qualcosa che coinvolge Manuela coinvolge in maniera automatica anche Loris quindi sarà secondo me un effetto domino sicuramente e quindi questo volevo anche dire al dottor Barzane che consulente Barzane che adesso come cosa dirà è andato sventolando come dire la bandiera non ci sono indagate non ci sono indagate e allora la procura ha battuto un colpo per il momento uno solo ma penso che nei prossimi giorni ci saranno altri colpi da battere sicuramente sì quindi questo fatto di dire il consulente Barzane di dire facciamo il DNA a tutto il condominio l'assassino viene da fuori non c'è il contesto di prossimità indagate sull'uomo anziano che mandava i mazzi di fiore con i biglietti cioè anche cose anche cose vergognose ecco vergognose per la memoria della povera vittima quindi adesso vorrei vedere cosa adesso cosa dirà il consulente Barzane adesso che il numero di gioco si fa serio che i muri cominciano a cadere a sgredolarsi perché 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 credo che non sarà il solo avviso di garanzia non sarà non può essere non può essere perché questo è un avviso di garanzia con l'imputazione di omicidio non credo assolutamente che si possa sostenere che improvvisamente ritiene di farsi una giustizia così per un per dei fatti che alla fine non gli appastengono più di tanto quindi la svolta c'è stata la svolta c'è stata in una maniera clamorosa e adesso restate sempre in contatto perché sicuramente credo che a breve il cerchio si chiuderà anche secondo le mie previsioni anche su Manuela e su Loris però attenzione anche a Valeria perché Valeria che è stata sentita lungamente ieri a Valeria sicuramente è stata detta attenzione pensaci bene dicci bene le cose perché se emergono delle prove questi indizi che sono emersi e prove sulla colpevolezza di Lewis verrà indagata formalmente anche lei come minimo minimo come favoreggiamento perché perché se lei dice ancora sostenendo che lui non poteva scendere perché lei avrebbe sentito lo guardava l'ha visto eccetera eccetera allora offre una copertura magari non vera non convinta e allora potrebbe andare nei guai anche lei quindi fate bene attenzione seguitemi questo è un caso che sta fermentando molto finalmente ma io dico lo dico con tutto il rispetto finalmente dico la svolta poi per carità può essere pure che questa visita di garanzia non significa più di tanto però c'è qualcosa che si muove nel senso della verità se si sono fatti i passi avanti e non siamo ancora non siamo che all'inizio quindi grazie condividete il video con tutti i vostri amici dappertutto grazie grazie state in collegamento e un abbraccio a tutti quanti voi grazie grazie grazie